Ciao a tutti, io sono Alex Multiversa e bentornati su FoodSpring Italia. Quest'oggi andremo a fare un workout brucia grassi. Faremo un circuito con 7 esercizi. Ognuno di questi durerà un minuto. Suddiviso in 20 secondi on e 10 secondi di rest. Prima di partire vi mostro gli esercizi. Primo esercizio seal jack. Secondo esercizio skip alto. Terzo esercizio standing crunches. Quarto esercizio squat. Quinto esercizio bicycle crunch. Sesto esercizio plank toe touch. Settimo esercizio Russian twist. Oggi si brucia. Siamo 3, 2, 1, seal jack. 20 secondi. Per scaldarci un attimo e partire con questo workout. Let's go. Dai ragazzi. Dai ragazze. Bruciamo questi grassi. Pausa. 10 secondi. Ci sciogliamo. E ripartiamo altri 20 di seal jack. Via. 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 Pausa. 10 secondi. Sciogliamo. Prossimo skip alto. Respiriamo. 3, 2, 1. Skip alto. venti secondi resti 10 secondi tutto il corpo lavorerà e brucieremo, brucieremo i nostri grassi 3, 2, 1, via, skip alto resti dopo questo, standing crunches, ossia alterniamo via così, come on, let's go non molliamo così ragazzi e ragazze spingite al massimo spingiamo tutti al massimo alta intensità riposo per 10 secondi così riposiamo posizione e ripartiamo standing crunches così come on bruciamo i grassi resti 10 secondi dopo questo, squat ci siamo riposo riposo 10 secondi così riposiamo, respiriamo così let's go let's go squat ancora 8 secondi dai resti resti dopo questo bicycle crunch ci posizioniamo andiamo giù e partiamo bicycle crunch resti resti riposiamo riposiamo respiriamo ancora ancora riposiamo bruciamo bruciamo resti resti dopo questo plank to touch siamo rest rest 10 secondi riposiamo che facciamo ancora? posizione via rest così 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 ultimo rush and twist posizione via rest e via 5 4 3 2 1 stop un minuto di rest riposiamo prendiamo fiato l'importante l'importante ragazzi è la respirazione fatelo tutti respirate bene alta intensità respiriamo bene e lavoriamo al meglio così siamo a metà ancora 30 secondi di recupero riposiamo e poi ripartiamo ci siete? tutti carichi carichi e cariche ragazzi e ragazze così ancora 10 secondi di rest ora 10 secondi e ripartiamo col seal jack ci siamo via seal jack let's go let's go così ragazzi così ragazzi dai seal jack lavoriamo con questo cardio lavoriamo al massimo stop rest 10 secondi carichi 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 e riprendiamo così così si comincia a sudare ragazzi si suda un sacco resti dopo questo skip alto ancora 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi riprendiamo e riprendiamo e riprendiamo 2 1 stop ci si resti dopo standing crunches così 3 2 1 via si suda si suda si lavora con tutto il corpo per bruciare al massimo così non mollate manca poco non mollate resti gli secondi ancora via così no rest ci riposeremo ci riposeremo alla fine ora spingiamo resti 10 secondi passiamo 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 gli squat 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 forest 10 secondi 10 secondi 10 secondi questo è quello che tu dai déjà la Si suda ragazzi un sacco Si suda un sacco Ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 Stop il resto Dopo questo bicycle crunch Via Resto Attenzione via Abdomi brucia Resto Scenziamo Il prossimo sarà Plank Toh touch Ja Last Di secondi Ancora Altrimenti Altrimenti Resto Ultimo Russian twist Resto Siamo via Resto Resto E riprendiamo 3 2 1 Via Concentrati Concentrate 7 6 5 4 3 2 1 Riposo Facciamo un po' di stretching A terra oppure in piedi Workout bello tosto ragazzi Mi raccomando un bel like Un bel commento Iscrivetevi qua sotto al canale E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video